benvenuti a meteo molise vediamo le previsioni per le prossime ore sulla nostra regione sereno poco nuvoloso su tutto il molise non sono previste piogge soleggiato sulla costa venti deboli mare poco mosso le temperature previste campo basso minima 13 massima 25 isernia minima 11 massima 24 a termoli temperature comprese tra 18 e 22 gradi e a boiano tra 15 e 26 gradi a larino minima 13 massima 21 ad agnone minima 11 massima 25 a venafro temperature comprese tra 13 e 25 gradi